Cosa fa un leone ogni giorno quando si sveglia? Inizia a correre. Questo è da sempre il mio destino. Dominare è il mio istinto. Osservare la preda. E dare la zampata. Nei deserti. Fra le giugnole. Sulle nevi. Quanti erogiti. Il leone scende in pista con voi ogni domenica. Per dare a tutti i leoni d'Italia la possibilità di erogiti. E vincere. Il suo motore è la vostra passione. Il leone è ancora affamato. E tu? Peugeot.